Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Marchio Infusino. Oggi cercheremo di capire come fare a velocizzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana. A questo proposito, lo studio legale Boschetti ha adottato una formula innovativa che si distingue dai classici solleciti, in quanto prevede la presa in carico dell'intera pratica di cittadinanza del cliente. Tuttavia, è bene ricordare che però, per fare in modo che il sollecito abbia successo, è necessario non affidarsi a dei moduli prestampati facilmente reperibili sui vari siti web, ma è necessario che questi solleciti vengano effettuati con competenze, soprattutto attraverso il linguaggio tecnico. Quindi, per fare in modo che abbiano successo, è necessario che venga questo sollecito fatto in maniera incisiva, quindi entrando nel caso concreto ed esponendo nel dettaglio le ragioni per i quali si ritene necessario giungere nel termine più breve possibile all'adozione del provvedimento finale. Ad esempio, è successo nel nostro studio che il nostro cliente si è rivolto a noi per cercare di ottenere comunque in tempi più brevi la cittadinanza italiana, in quanto aveva ricevuto una importante proposta di lavoro all'estero e per tale motivo necessitava urgentemente di ottenere lo status di cittadino italiano. Ebbene, il nostro studio, attraverso l'allegazione all'atto del sollecito della proposta del vantaggioso contratto di lavoro, è riuscito a sbloccare la pratica e a far ottenere al cliente, in giro di poco tempo, l'adozione del provvedimento finale. Possiamo quindi notare come la pratica del sollecito è di fondamentale importanza, in quanto permette di tenere viva l'attenzione sulla pratica attraverso una precisa attività di pressing all'amministrazione, quindi sia al Ministero dell'Interno che alla relativa prefettura competente, aprendo con questi uffici un intenso e proficuo dialogo, volto proprio a fare in modo che i tempi naturali di definizione del procedimento si riducano e quindi il cliente riesca a ottenere in tempi più brevi il provvedimento che lo riconosce Cittadino Italiano a tutti gli effetti. Spero quindi di essere stato abbastanza chiaro in questa breve esposizione, rimaniamo comunque a vostra disposizione. Per maggiori chiarimenti o informazioni potete contattarci al numero dello studio 06 88 92 1971 oppure tramite email info-avvocatoimmigrati.it Vi ringrazio e vi auguro una buona serata!